L'era delle fotocamere sembra essere definitivamente tramontata in favore dei più moderni smartphone, vero? Secondo noi sbagliato e infatti oggi sono qui a farvi un video per raccontarvi quali sono secondo me 5 motivi per cui ancora oggi conviene utilizzare una fotocamera vera rispetto a un telefono smartphone anche se di fascia alta. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia, video e tutto quello che orbita intorno all'universo dell'immagine, oggi andiamo a parlare di smartphone e di macchine fotografiche, un topic che abbiamo già toccato diverse volte. Io sono come sapete un po' scettico su entrambi i versanti perché trovo che ci siano dei punti di forza su entrambi i sistemi, però oggi vado a raccontarvi quelle che secondo me sono 5 cose assolutamente imprescindibili in fotografia che sullo smartphone faccio fatica ad avere. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto così non rischiate di perdervi tutti gli aggiornamenti e le risposte ai vostri commenti in forma di shorts che pubblico abbastanza regolarmente. Andiamo a incominciare. Allora innanzitutto ci tengo a sottolineare una cosa, io adesso andrò a fare delle considerazioni di carattere generale, quindi quando dirò questa cosa è meglio sulla macchina fotografica piuttosto che è meglio sullo smartphone, molti di voi potranno dirmi ma non lo sai brutto caprone ignorante che se prendi questa componente thailandese più quest'altra componente giapponese le metti insieme con questo cavetto indocoreano ottieni esattamente la stessa cosa. No, ragazzi no, il punto non è questo. Il punto non è che esistono dei workaround complicatissimi per fare la stessa cosa, il punto è che io nativamente ottengo cose diverse sui due sistemi diversi, quindi è questo di cui vado a parlare. Poi che esista un meccanismo complicatissimo per ottenere la stessa cosa su entrambi i sistemi, a me in questa sede interessa poco perché qui stiamo parlando del singolo strumento e di cosa nativamente riesco a ricavare da quello strumento, quindi le considerazioni su cosa sarebbe possibile fare prendendo centomila altre cose le lasciamo se vi interessa a un prossimo capitolo, fatemi sapere in un commento se vi interessa. Andiamo a incominciare. Il primo motivo per cui personalmente prediligo sempre l'utilizzo di una macchina fotografica vera rispetto a un telefono smartphone è, sorpresa sorpresa, la qualità d'immagine. Sì perché ovviamente, ma questo non è così ovvio per cui lo ribadisco ancora una volta, ovviamente una macchina fotografica vera avrà sempre una qualità superiore rispetto a un telefono smartphone. Questo vuoi per le dimensioni del sensore, vuoi per la qualità delle lenti, voglio dire ci arriviamo tutti che un sistema piccolo così e con questo spessore e con un sensore piccolissimo probabilmente non avrà esattamente le stesse cose di un sistema più voluminoso con delle ottiche grosse così. Ovviamente un sistema più voluminoso dedicato solamente alla fotografia ha una qualità d'immagine che è superiore. Una qualità d'immagine, non una resa. Certe volte la resa dello smartphone può essere superiore ma la qualità pura è sicuramente superiore su un dispositivo fotografico. Nel momento in cui facciamo una foto con cognizione di causa, con la luce giusta, viene meglio con la fotocamera. Ovviamente nei contesti, chiamiamoli così, sbagliati, nei contesti amatoriali o nei contesti randomici, se io faccio una foto alla mia fidanzata contro sole sulla spiaggia magari viene meglio con lo smartphone perché lo smartphone è pensato per contesti così più vari e disparati e non è pensato per un utilizzo professionale. Però la qualità d'immagine è superiore sulle macchine fotografiche ancora oggi. Il che ci porta direttamente al secondo motivo, ovvero la fedeltà. Nel momento in cui scattiamo con uno smartphone, sapete benissimo, ho fatto una serie di video anche su questo parlando di iPhone 15 Pro, quando scattiamo con uno smartphone abbiamo un dispositivo fotografico che interpreta la realtà e la rielabora per dare al fotografo principiante o al piccolo influencer che sta pubblicando il selfie, la possibilità di fare delle foto fatte bene a fronte di una conoscenza fotografica che rasenta lo zero pneumatico. Quindi lo smartphone è fatto per questo, è fatto per rielaborare l'immagine e restituire un'immagine accattivante anche a un utente che non ne capisce assolutamente nulla. Ovviamente uno smartphone in mano a un utente che ne capisce può fare delle ottime cose, però è pensato per fare delle ottime cose anche in mano a uno che non ne capisce assolutamente nulla e per fare questo rielabora la realtà e ci restituisce un file che non è veritiero. Prova ne è che se io faccio due foto esattamente nella stessa posizione magari ottengo due colori diversi, magari ottengo un'esposizione completamente diversa. Quindi le immagini che io tiro fuori da uno smartphone non sono costanti e non sono fedeli. Quindi se io devo fare un set fotografico con uno smartphone avrò colori diversi man mano che faccio le foto, avrò esposizioni diverse man mano che faccio le foto perché basta un micro movimento, basta introdurre un qualcosa di un colore, lo smartphone bilancia e va a scombinarmi tutto quello che avevo cominciato a fare. Quindi da questo punto di vista non è affidabile. Veniamo al terzo punto e parliamo proprio di affidabilità. Nel momento in cui scattiamo con uno smartphone io vi assicuro che non stiamo lavorando con un mezzo affidabile. Adesso io vi parlo di fotografia professionale o semiprofessionale. È evidente che se siamo a fare una gita e vogliamo fare una foto del tramonto è ovvio che funziona benissimo e non ci saranno mai problemi. Mi è capitato di usare iPhone 15 Pro anche per lavoro perché comunque in ufficio l'abbiamo preso per quello, l'abbiamo preso per usarlo per lavoro. Quindi mi è capitato di farlo. Un sistema fotografico che si surriscalda molto facilmente e con una memoria molto piccola a fronte di foto molto grandi che fa. Ovviamente lo fanno apposta per farti comprare spazio di archiviazione, questo è evidente. Però è un sistema con cui io non sono tranquillissimo perché è un sistema non pienamente professionale. Va bene se devo fare il selfie, va bene se devo fare la foto del mio gatto, va benissimo e faccio delle foto del mio gatto più belle con quello piuttosto che con la fotocamera perché il gatto è più tranquillo se mi avvicino con una roba piccola piuttosto che con un affare grosso così. Quindi assodato questo però è un sistema fotografico che non mi permette di andare in giro tranquillo, non mi permette di dire porto a casa il lavoro di sicuro, non è un mezzo affidabile. Inoltre ma questo lo vedremo più avanti è un sistema fotografico che mi permette di fare certe cose ma certe altre no. E vi faccio l'esempio con il quarto punto ovvero il flash. Questa è la tipica cosa per cui qualcuno potrebbe dirmi ma non lo sai che esiste un sistema per integrare i flash anche sul telefono, lo so. Però è una cosa complicata laddove io con la macchina fotografica attacco semplicemente la mia slitta e scatto direttamente mentre con lo smartphone ho visto che ci sono un po' di difficoltà. Bisogna installare delle app in più, bisogna comunque prendere delle componenti in più, non è facilissimo, non è così intuitivo. Personalmente credo che sia molto più semplice scattare col flash con la macchina fotografica anche perché dobbiamo considerare che a quel punto usare il flash è difficile e avremo le stesse difficoltà anche su smartphone ma con in più il problema di dover trovare la compatibilità, le cose che funzionino, il pezzettino per interfacciare l'iPhone con i flash. Cioè non è così facile, almeno io non l'ho trovato così facile. Diciamo che i flash sono una grossa parte del mio lavoro e personalmente quando devo usare i flash uso la fotocamera. Per tutti i motivi che abbiamo detto prima è perché ho già le componenti con la fotocamera mentre con lo smartphone dovrei scaricarmi nuovi compatibili con questo sistema dell'iPhone o dello smartphone in generale che voglio utilizzare. Insomma è una complicazione in più, quindi da questo punto di vista io preferisco utilizzare le mie fotocamere perché ho già un sistema di flash che funziona benissimo con le mie fotocamere. È evidente che se partiamo da zero e vogliamo dotarci di flashettini per lo smartphone possiamo partire da zero e andare in quella direzione. Ma secondo me non conviene neanche e voglio dirvi perché i miei flash sono compatibili con la mia fotocamera adesso e saranno compatibili con la mia fotocamera per sempre. Io fra cent'anni prenderò un'altra fotocamera e saranno ancora compatibili perché la slitta penso che sarà sempre quella. Con lo smartphone non è detto, basta un aggiornamento di sistema e sapete quante volte me l'hanno fatto questo scherzo? Aggiornamento di sistema e ops! E no, quell'hardware che hai tu non è più compatibile e questo mi ha fatto investialire e mi ha fatto pensare io un investimento di hardware per smartphone non lo faccio perché se fanno apposta questo giochino che dopo poco tempo non funziona più io ci ho rimesso e questa cosa non mi sta tanto bene e quindi mi tengo le mie vecchie luci di flash compatibili con le mie fotocamere che con quelle sono tranquillone. Arriviamo all'ultimo punto che è la versatilità, quindi ve l'avevo accennato prima. Nel momento in cui utilizzo lo smartphone posso farmi un selfie, posso fare un paesaggio, posso fare uno still life ma che cosa succede se mi chiedono una foto sportiva? Faccio fatica perché comunque un iPhone non è proprio pensato per quello, non è pensato per seguire dei movimenti veloci. Lì rischiamo di non riuscire a catturare quello che vogliamo catturare. Cosa succede se mi chiedono una fotografia della luna? Non riesco a farla perché lì ci vuole della strumentazione specifica. Cosa succede se mi chiedono una fotografia di un gheppio appollaiato su un comignolo o cose del genere? Non riesco a farla. Lo smartphone ci permette di coprire tutta una serie di scenari ma ce ne sono tanti che invece ci rimangono preclusi e quindi sono scenari come anche lo sport estremo, come anche lo sport con dei teleobiettivi importanti. Sono tutte cose che non riusciamo ancora a fare bene con lo smartphone e quindi sono cose dove se le vogliamo fare sono cose anche abbastanza difficilotte, quindi tendenzialmente sono cose che fanno i professionisti. Non riusciamo a farle con lo smartphone ma è meglio se non ci proviamo neanche e quindi lì è indispensabile avere ancora una strumentazione che ci permette di fare tutto perché la macchina fotografica tradizionale ci permette di farci il selfie, ci permette di fare il paesaggio, la foto del piatto al ristorante da influencer. Riusciamo a fare le stesse cose però riusciamo a fare anche cose un pochino più difficilotte, cose un pochino più chiamiamole professionali, mentre con lo smartphone spesso e volentieri non ci riusciamo. Quindi il bilancio finale per me vince sicuramente la fotocamera ma sotto quasi tutti i punti di vista l'unico vantaggio dello smartphone, l'unico veramente, è la portabilità. Sì è forse il prezzo perché lo smartphone ce l'hai comunque in tasca e non devi comprare nient'altro. Quindi la forza dello smartphone è questa, però per tutto il resto, per quello che ti dà, per quanto mi riguarda stravince la fotocamera. Ovviamente dipende dall'uso che ne facciamo perché se io so che dovrò fare solamente un selfie o che dovrò fare solamente una foto al mio gatto mentre dorme, allora questo va benissimo. Però se invece so che magari sto andando a fare un lavoro e magari il cliente potrebbe chiedermi qualcosa di particolare, col cellulare non sono tranquillo perché se mi chiede una cosa che non sono in grado di fare faccio un po' la figura, quindi faccio meglio a portarmi una macchina fotografica con cui posso accontentarlo su tutta la linea o posso accontentare me stesso su tutta la linea se non è un cliente se sto scattando per me stesso, perché poi comunque il meccanismo è lo stesso. A questo punto amici fatemi sapere qui sotto in un commento se ho dimenticato qualcosa, se ci sono altri punti che secondo voi ho trascurato, fatemi sapere se contenuti di questo tipo vi interessano, vi ricordo anche di iscrivervi al canale così me lo fate capire in maniera incontestabile se vi è interessato oppure no, lasciate anche un like a questo video. Io vi ricordo i soliti appuntamenti che sono circa tre volte a settimana più gli shorts quando capita, vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.